abbiamo Alessandria Panasci che sta guidando la macchina in modo Scraut Frank una parte in maniera molto pericolosa però va bene io mi affido a Dio guardate la mano portata sul volante con la musica su questa cosa mette le orsine a me se non ci fosse un domani poi si vado adosso a macchiapelli a me se non ci fosse un domani poi si vado a creatore mette le mani ma qualcosa da direi Ale ciao ce la posso fare ad arrivare a casa si 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 spera la vedo molto posizionata scurta questa bimba vai ora c'è la rotonda c'è la rotonda Martin Garrix mi fa vedere come fiera la rotonda vai ecco guardate le mani sul volante in maniera molto contraria mettiamo le frecce ma che frecce guardate 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 lì guardatela questo si chiama guidare bravissima ma che cazzo le sapete voi oh fa un po' di ticchizzare ma va bene oh ahahahahah è falsa eccolo un'altra ma di questa esperienza cosa dici che figa madonna bellissima come guidare una pastriacazzo di cane vi presento la guida si dice ecco la guida è il tagadà 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 provaci un po' ecco l'alessandra ci sta a provare un po' ma non ci so mai che addio prendiamo il pen a mano perchè è pericoloso lei madonna benedettissima questa è pazza questa è pazza questa è pazza questa è porca maiana ragazzi una mia tarda